Dopo che ho pubblicato il primo post sulla verità, ho ricevuto una specie di regalo. Un amico mi ha sottolineato un altro passo che potrebbe essere inserito in quella piccola sequenza che ho costruito e commentato appunto nel primo post. Perché ho costruito questa sequenza? Beh, ora lo posso riprendere in breve. Il fatto è che la verità è una questione complicata e più si è iniziati la filosofia, più si è consapevoli della difficoltà di trattare questo problema. È come se, posso dire, volerlo chiamare un oggetto che non si sa bene come prendere e quando non si sa come prenderlo si cercano dei punti di appoggio, delle entrate. O, se vogliamo, degli oggetti più piccoli, più maneggevoli, che possano essere i punti di partenza. Qualcosa di più maneggevole, lavorando sul quale si accede, si può incominciare a riflettere sul problema complesso, antico e difficile della verità. Ad esempio, Austin, filosofo che citavo l'altra volta e che riprenderemo anche nel prossimo post, dice che bisogna partire dagli usi linguistici della parola, in realtà non dice della parola verità ma della parola vero. All'inizio lui evoca la maniera in cui è impostata la riflessione sulla verità in filosofia, una maniera in cui, posta la domanda che cos'è la verità, domanda socratica, ci si interroga facendo riferimento alle categorie aristoteliche. Quindi ci si chiede se è una sostanza, se è una relazione, se è una proprietà, eccetera, eccetera. Ecco, Austin è come se volesse fare un passo indietro rispetto a questa tecnicizzazione del problema, con tutte le presupposizioni che porta con sé la costruzione di una problematica tecnica. E dice, facciamo un passo indietro e incominciamo a considerare gli usi linguistici. Come già dicevo, è una mossa che ha qualcosa di aristotelico. Anche Aristotele, in molti casi, parte da quelli che chiama i legomena, no? Ecco, ciò che diciamo, ciò che diciamo di un certo tema. Talvolta i legomena sono affiancati dai fainomena, cioè dai dati che potrebbero essere esplorati con una metodologia diversa, una sorta di indagine naturalistica. Ma, in rapporto ad altri problemi, i legomena, ciò che diciamo, è una parte importante degli stessi fainomeni, è una parte importante delle evidence, dei dati da vagliare, delle prove, delle evidenze da considerare. Non ci sono prima i discorsi e poi finalmente accediamo ai fatti. Ecco, in rapporto ad alcune problematiche, tra i fatti da considerare ci sono proprio le distinzioni che emergono appunto negli usi linguistici. E questo è uno dei punti su cui insiste Austin. Quindi dice, cominciamo a considerare come usiamo la parola vero per provare ad accedere a questa, trovare un'altra strada, una strada in qualche modo più fresca, più, meno compromessa con posizioni ricevute e non riflessivamente esaminate per entrare appunto in questa, in questa antica questione. Ma, poi si potrebbe anche, ed è sempre qualcosa in qualche modo autorizzato dal metodo di Aristotele, invece che partire dagli usi linguistici che facciamo tutti, da ciò che diciamo tutti, si potrebbe anche partire da ciò che hanno detto alcuni, cioè, diciamo così, dalle opinioni autorevoli. Quindi invece di cominciare, come ha fatto Aristotele, diciamo così, dai legomeni, da ciò che diciamo, partire da ciò che ha detto Aristotele, o da ciò che ha detto Hegel, da ciò che ha detto Kant. E anche questa eventuale posizione resta pur sempre più circoscritta, più maneggevole, per poter poi, discutendola, attraversandola, criticandola, provare a fare un discorso di più ampia portata. Ma non solo i filosofi possono stare in questa posizione, può essere anche che si comincia da una poesia, da un'opera letteraria, o da un passo di un'opera letteraria, in cui ci sia una considerazione sulla verità, che si ritiene possa fare da via d'accesso, perché ad esempio elabora, mette da voce, mette in parola, un'esperienza significativa per ragionare sulle verità. Come dicevo nell'altro post, non è detto che l'esperienza di produrre un asserto banalmente vero, come questo muro è bianco, sia l'esperienza più significativa, per cominciare a ragionare sulla verità. Si potrebbero anche considerare più significative altre esperienze, ad esempio quelle a cui dà voce un poeta. pensiamo ad esempio a quel famoso verso di Oden, dice la verità vi prego sull'amore, no? Ecco, lì si potrebbe cercare di capire qual è il significato di verità che è implicito nel fare questa preghiera. Difficilmente diremo che è produrre semplicemente degli asserti corrispondenti alla realtà sull'amore, no? è dire l'essenza profonda dell'amore, non semplicemente una qualunque cosa che è vera dell'amore, ma dire quella che ne esprime il nucleo profondo. Allora la verità si associerebbe al nucleo profondo, a ciò che ti fa cedere, ti fa comprendere, non semplicemente ti fa produrre un asserto corretto, ma anche ti fa comprendere la cosa. Insomma, queste sono diverse possibili via d'accesso. Allora, alla fine la cosa che io ho scelto di fare è stata di considerare tre luoghi in cui viene citata la domanda di Ponzio Pilato. La domanda di Ponzio Pilato che viene riportata nel Vangelo di Giovanni, che fa parte dell'interrogatorio di Gesù, dopo che Gesù ha detto io sono qua per testimoniare la verità, Ponzio Pilato dice che cos'è la verità. Ora, questa domanda che ha l'apparenza, che è a livello della frase assolutamente tipica della filosofia, ti esti, ti esti la aletzeia, no? che quid est veritas, è la domanda socratica, è curioso che da diversi filosofi la evochino facendo appunto riferimento a quel passo del Vangelo. perché? Ecco, e ho cominciato, ponendo questa domanda, a considerare tre di questi rinvii. uno, filosofo tedesco del Novecento, Karl Appel, uno di Nietzsche e uno del filosofo inglese, che ho appena citato, Austin. Ebbene, questo amico mi ha sottolineato che anche un filosofo italiano, in un suo libro, ha citato, evocato, la domanda di Pilato. Naturalmente, io non pretendevo di aver esaurito, di aver esaminato tutti coloro che hanno posto questa domanda, ma questo amico ha capito benissimo questo e non ha preteso nemmeno lui di completare la lista. Per esempio, anche Francis Bacon cita questa domanda. Dato di modo, questo amico mi ha citato questo passo di un filosofo italiano che si chiama Romano Bacchin. Essendo non molto noto, conviene che ne dica qualcosa, non pretendo naturalmente di presentarlo, voglio solo dire che fa parte di quei filosofi italiani ingiustamente dimenticati. dico ingiustamente per una ragione, diciamo così, che si può formulare brevemente. Fa parte di quei filosofi che hanno, per tutta la vita, continuato a lavorare su due o tre questioni assolutamente fondamentali, stando alla tradizione filosofica, e continuando a lavorare in un corpo a corpo, mai finito, quindi esplorandole, approfondendole sempre di più, confrontandosi con i contemporanei che hanno ad esser dedicato attenzione e, a maggior ragione, ai classici che le hanno elaborate. Quindi è difficile quando qualcuno, per tutta la vita, lavora con questa passione, con questa attenzione, con questa radicalità su certe questioni, non porti a rivelarne qualcosa di importante. Anche nel caso in cui non avesse ragione, comunque obbliga a pensare. Ha sicuramente visto qualcosa di queste problematiche, per cui è importante tenerlo presente, anche eventualmente per sviluppare una posizione diversa. In questo senso dico ingiustamente dimenticato. Ce ne sono altri. un altro, per esempio, vabbè, adesso non è importante che andate a citare. Comunque, ecco, allora, dunque un passo in cui Romano Bacchini, in un libro che si chiama Teoresi Metafisica, che è della metà degli anni Ottanta, 1986 se non sbaglio, cita questa domanda di Pilato e ci consente, considerarlo adesso, di fare un passo avanti nella nostra riflessione. Ora, il passo di Bacchin, che fa parte del capitolo 133 di Teoresi Metafisica, un libro del 1984, prima devo aver detto 86, invece 84, è piuttosto difficile. Ne dirò solo qualcosa, ma, per prima, prima di tutto, torniamo un momento sul luogo citato, cioè sul passo del Vangelo di Giovanni. Allora, dicevo, Gesù dice, sono qua per testimonare la verità e Ponzio Pilato risponde che cos'è la verità. Come già dicevo, non è chiaro qual è l'intenzione con cui Pilato dice questa frase. Secondo Nietzsche il senso è sarcastico. A Pilato non interessa affatto questi discorsi sulla verità degli ebrei, questa disputa tra questo maestro ebreo eretico e gli altri sulla verità, eccetera. Che cos'è la verità? È un modo sarcastico o scherzoso, come dice Francis Bacon, per disinteressarsi, infatti se ne va senza aspettare la risposta. L'andarsene è appunto, tanto per Nietzsche quanto per Bacon, un non aspettare la risposta, un essere indifferente alla risposta, un non essere interessato alla risposta. ma si potrebbe anche intenderlo invece come qualcuno che è lavorato dal dubbio e quindi si allontana perché è effettivamente lavorato dal dubbio, ad esempio ha qualche conoscenza della cultura romana che è legata alla cultura greca, quindi sa della filosofia, sa che la filosofia si è interrogata, si è posta domande come quella non ha trovato risposte, non ha dato risposte definitive, quindi insomma si fa questa domanda e si allontana lavorato dal dubbio. Lavorato dal dubbio. Austin da parte sua valorizza il non aspettare la risposta di Pilato non come una forma di sarcasmo ma appunto come un gesto da cui imparare ancora qualcosa e il qualcosa è quello che dicevo poco fa, cioè che non si tratta di concentrarci sulla nozione astratta di verità ma piuttosto qualcosa che non c'entra assolutamente detto da Pilato sul predicato è vero che sarebbe in qualche modo più maneggevole di verità. Ora Bakkin nel passo diciamo così formula una interpretazione ancora diversa è sbagliato dire un'interpretazione perché è evidente che Bakkin non sta pretendendo che sia l'intenzione di Pilato ma è come se dicesse anche lui se noi ora pensando filosoficamente recuperiamo quel gesto possiamo attribuirgli o riappropriarsene dargli un senso sicuramente non inteso da Pilato ma che lo rende significativo. Il non aspettare la risposta di Pilato nella lettura di Bakkin diventa il segnalare il segnalare che in realtà la domanda non può ricevere risposta perché non è una vera domanda è una domanda diciamo così problematica Bakkin ha una tesi più forte di questa ma diciamo per il momento problematica è una domanda da rispetto alla quale in realtà il filosofo deve fare un passo indietro per metterne in questione i presupposti per mettere in questione i presupposti che in realtà la rendono una domanda diciamo così preliminarmente non valida ecco allora è interessante questa mossa di Bakkin diciamo facendo un lavoro speculativo lui valorizza il fatto che non trova risposta come un sintomo del fatto che in realtà quella domanda non può trovare risposta perché ha qualcosa che non va ecco diciamo a livello ancora prefilosofico ha qualcosa che non va che cos'è che non va in questa domanda